Ci troviamo presso la chiesa di San Marto Romeo di Albino e con noi abbiamo l'architetto Benvia Cervis al quale chiediamo di presentare i tre eventi che si tengono sabato 6 aprile presso la chiesa di San Marto Romeo. Ripetiamo, sabato 6 aprile di pomeriggio abbiamo la possibilità di presentare tre eventi culturali. Questo a dimostrazione che la cultura d'Albino è vivace e ha la possibilità di esprimersi e di chiedere alla gente anche non solo della popolazione albinese ma anche dei paesi vicini di potersi portare ad Albino sabato pomeriggio. Noi abbiamo tre eventi, uno qui in San Bartolomeo che ormai è un calendario mensilmente usato. Abbiamo la possibilità di presentare altri sguardi che è l'occasione per parlare con le giovani architette dell'Archi Collegio riguardo al problema del centro storico legato al passato ma soprattutto legato al futuro. Un'esperienza che è nata l'anno scorso e che speriamo prosegua anche quest'anno con eventi legati, ripeto, al futuro più che al passato. Il secondo evento è quello della presentazione del libro I frati Capuccini d'Albino cioè che è il quattrocentesimo anniversario della loro presenza e della fondazione d'Albino. Un libro molto colto e molto preciso di cui parlerà poi dopo lo storico Tiraboschi. Il terzo evento che ci piace presentare anche se non siamo noi a organizzarlo ma è fatto da Arte Sul Serio con la collaborazione della biblioteca è un storico, un cultore, Leonardo Lussana, un giovane studioso di Moroni che farà un viaggio fra tutte le pitture storiche e sacre che abbiamo ad Albino. Intanto devo precisare che la presentazione avverrà presso il convento dei Capuccini nella Sala Azzurra alle ore 17. Il libro è stato raccolto, studiato, approfondito a cura sotto il coordinamento di Angelo Calvi e di Franca Moretti e facendo anche riferimento agli esperti il professore Luigi Pellegrini e il professore Giovanni Grado Merlo che sono storici del movimento dei Capuccini e particolarmente preparati che hanno dato i loro consigli. Era necessario avere un quadro dell'evoluzione storica di questa istituzione ad Albino un'istituzione che ha lasciato un segno e continua a lasciarlo molto importante. Il libro si compone di diverse parti. Cioè una fase iniziale a cura di Fra Paolo Giavarini tratta la figura di San Francesco e la spiritualità dei frati Capuccini. Poi segue la parte più prettamente storica che riguarda l'evoluzione dell'istituzione Capuccini ad Albino dal 1613 fino ai nostri giorni. Ecco questa è stata curata da me e da Franca Moretti. Una terza parte invece riguarda i frati Capuccini albinesi che è abbastanza numerosi con profili biografici fra i quali spicca in modo particolare quello di Monsignor Camillo Carrara primo vescovo di Eritrea e di Fra Rufino Carrara che ha lasciato un'impronta molto importante pure in Eritrea. Ecco segue una parte relativa al seminario serafico che ha preparato generazioni di missionari Capuccini e che è stato attivo dal 1926 fino al 2003. E un'altra parte invece è a cura dell'architetto Anna Maria Mologni riguarda le strutture e l'evoluzione delle strutture del convento nelle varie fasi storiche. Il lavoro è stato effettuato sulla base di documenti disponibili. Ecco per la verità in alcune parti documenti ufficiali e pochi documenti invece di tipo più personali.